Se questo... Ah, facciamo una scommessa Se questo video arriva... Non ci arriverà mai tanto, non ti preoccupare bro Se questo arriva a... 7500 like Se questo video arriva a 7500 like Alessio Barsotti in quanto Alessio.Barzo Ma meglio conosciuto come AltreSietto2001 Si rifarà Questi capelli 3, 2, 1 Ho fatto 1, 2, 3 Stella Brava versione, l'ultima volta erano vestiti uguali In nero con le magliette della Ralf Cavallini sulle mie magliette A cui lotti sulle mie magliette Non metterò mai ragazzo E adesso a cui lotti... No, a cui lotti te che ho chiesto Debi, tutti a casa Allora, attaccioni Hashtag Nainggolan è finita Beh ragazzi, infatti andati sul questo Canale Perché ho anche un altro In realtà su un altro, insomma, di altra forma Oggi niente, singolare È un altro you È un altro you Siamo qui con un video che io tempo fa vi portai Tempo passato Amma, dai, l'italiano È una reazione A vecchi video Perché di nuovi ancora non ne ho fatti Con I sottotitoli Allora, l'ultima volta ragazzi siamo tagliati malissimo Nel senso che poi abbiamo tutti i segni sulle braccia Allora, una cosa da non rifare What is this dirty moonshine of which you speak? Allora, benvenuti in questo Stavo cercando un'altra conflietta Allora Allora, oggi ci vedremo Benvenuti Dei vecchi video ragazzi Con sottotitoli Ma quali video? Dillo tu dai I nostri video I nostri video Quali video? Cioè Comunque, la cosa bella è che stiamo registrando questo video molto anticipo Perché l'ultimo che è uscito è il derby Quindi ancora avremo la carriera Un altro video La carriera Un altro... No Un altro video La carriera Un altro video Comunque Allora, bro Ma secondo te Loro hanno visto L'hanno visto o no? No, non l'ho visto L'altro video Non l'hanno visto Cioè non l'hanno visto questo video qua In questa cosa io praticamente Ma sbatto un faccia L'hanno visto È un problema È un problema È un problema della madonna Proprio quindi ragazzi Nelle schede lo trovate Ciao Allora, signori e signorine Il primo video Non poteva che essere questo Quanto italiano Generati automaticamente È questo che mi preoccupa Capito? Vediamo che c'è Ah, questo era impossibile Sottolineato Sottolineato Ciao Ciao Non più all'altro dos Non più all'altro dos Sì, come vedete In questo video Non c'è con me Pedro Non sai come Pedro Non sei come Pedro Sei un'altra persona Vai Ha smesso i sottotitoli Cioè per un attimo non l'ha preso i sottotitoli Non so ancora come dirvelo perché Diccelo È stato tu Diccelo Aspetta Ora ho capito Gli aveva messo le corna con Luca È tutto proprio più chiaro adesso Ok, è tutto troppo in fretta Bene Nel senso che è durato poco Si chiama Si chiama Sottolineato 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 Regalata 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 Ho avuto l'opportunità di prepararvi psicologicamente Non ero pronto a vedere il mio video Però vi è piaduto È migliorato il YouTube ultimamente È bella Attenzione Continuo questo video Quindi non perdetevi neanche un secondo E chiaramente fatemi sapere anche con un commentino qui sotto Se il mese prossimo Volete rivedere un obbligo verità Magari anche con un altro YouTuber O con un altro ospite speciale Però mi sa che la telecamera mi ha messa a cazzo Tutte le cose Bella ragazzi e bentornati qui Cascinente Sogno Mi sono rimasto male ma mi ha dato il video Mi ha preso tutta all'inizio Incredibile Dovava ride Aspetta 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 Un altro ospite speciale ragazzi E bentornati qui passato giugno Passato Quando è caricato sto video? A maggio Quindi si è pure Capito Ti prego Ti prego Dagliela a lui Dagliela a lui Dagliela a lui No Vai a chiedere in giro alle persone anziane e non Se conoscono Fede Marconi Sì sì regà Avete capito bene Ma dato che verrebbe una cosa troppo epica Se raggiungiamo E ve lo giuro Se raggiungiamo i 5000 mi piace sotto questo video Lo vado a fare E infatti allora Allora Che poi c'è una scommessa in corso ancora Ancora eh Ancora Allora No perché questo video è a 4603 like Se arriva a 5000 Mi lascio qui sopra nelle schede Lo facciamo Esatto Quindi dobbiamo andare in giro A chiedere Alla gente se mi conosce C'è una cosa abbastanza autistica Il resto è fatta per noi Vabbè guadagno iscritti Guadagno iscritti Cioè tipo il vecchietto di 90 anni Che gli dico a youtube Gli ho fatto la guerra Quiz sul sesso No Aspetta aspetta Quei urli Bella ragazzi Ma che capelli avevo Dal mio canale oggi siamo Tornati Oh regà Quanto è buono Quanto è buono Quanto è buono Ale con sti capelli No ti prego Quanto è buono Ale con sti capelli Regà Hashtag Ale Ti fate quei capelli Facciamo una scommessa Se questo video arriva Non ci arriverà mai tanto Non ti preoccupare bro Se questo arriva a 7500 like Se questo video arriva a 7500 like Alessio Barsotti In quanto Alessio Barsotti Ma meglio conosciuto come Altre Sietto 2001 Si rifarà Questi capelli E poi che cazzo indico No 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 Piuttosto me li tingo Me li tingo di fucsia No vabbè lo fai Oh 7500 like Sì siamo fatti Niente Sì ho capito Ma non Cioè poi ci devo stare così in giro Già non rimorcio Ma te li rifà ma zi Che è arrivato Perché è le 2006 Guarda che è arrivato Che incurdo Mi tingo di fucsia 7500 Ma che ti tingi Quelli a 3000 te ne dici Dai Guarda che tornano subito così eh Perché questi Sono pettinati così Non è Cioè il taglio è quel Con ti fai te Diciti sì bro Diti sì A Maria De Filippi E a Valsoia E diti no A Maurizio Costanzo E al colesterolo Dai bro È il momento chiave del video Va bene Ha detto vabbè Dillo in cuffia Va bene Dillo in camera Va bene Ah sì cazzo C'hai Una fronte bellissima Ma vaffanculo Quindi signori Allora che ti è piaciuto Sto video bro Mi è piaciuto Come mi piace Ma che so le voglio Chiamiamo sespo Ok A bello Che me dici Senti E dato che so che ti stavi a fare pippe Su Maria Sole Ma perché riesci a spammarti Non sapendolo Dall'interno dei miei video È bruttissima questa cosa Comunque Cioè qui adessi letto 2001 Che ha appena letto Che è innamorato di Maria Sole Cosa vuoi dire A sua discolpa O meglio A sua colpa Come lo uccidi No devo pensare Come devo pensare Cazzo vuol dire Cioè ecco Maldi che uno Te punta la pistola davanti Aspetta devo pensare Che cosa devo fare Dico che è una bella ragazza Basta Detto questo Grazie Edo Grazie di cuore Ale spiega cos'è successo Al volo Non c'è niente da spiegare ragazzi C'è uno shottino Che si chiama pompino Scusa ci fai due pompini Comunque Comunque Allora ragazzi A te è piaciuto questo video quindi Sì Ok A voi è piaciuto Sì Perché poi Se non ti piacciono i video Non si vinca le visualizzazioni Ecco ecco No comunque ragazzi A te è piaciuto il video Anche se non vi è piaciuto Vi ricordo di dover arrivare A 7500 like Per No non ci arriviamo Sì se ci arriviamo Lui si fa il capello Non ci arriviamo Quello proprio bello Ti faccio un appello a youtube A youtube Ti prego torna ignorante Che facevi troppo ridere Se non lo si vede già Iscrivetevi al canale Seguitelo su instagram Perché ne ha bisogno Trovate il link Che non è un link Ma è il tuo nome di instagram Qui sotto Ovviamente seguite anche me Su tutti i social Noi ci becchiamo Con i prossimi video Ti autorizzo O ti obbligo Ad andare a chiudere Tra 3 2 1 Bello Grazie a tutti Ciao!